Benvenuti piccoli tossici bastardi in questo nuovo vlog, dopo che il mese scorso non l'abbiamo fatto perché ho avuto dei problemi Farò il vlog del mese scorso e questo tutto insieme, quindi questo sarà un vlog di agosto-settembre Prima di iniziare a vedere la classifica dei primi gamba coins, chi sono i primi in classifica dei gamba coins? Questi che vedete sono gli ultimi, tipo Gym Gaming, solo 3 punti, fai schifo Voglio ringraziare come sempre chi ha sostenuto economicamente il canale, chi ha potuto sostenere economicamente il canale Perché ripeto, ci sono tanti di voi che vorrebbero sostenere economicamente il canale ma non possono E io li ringrazio lo stesso, quindi iniziamo da chi ha potuto sostenere economicamente il canale Ovvero iniziamo dagli abbonati, grazie a Christian Grimaldi, Mircos Gamer, Aurelio Marra, Franciscio, Vizco, Frattoro, Merlino, El Samuel, Carmelo Cagnetti, Ludo Bruschi, Angela Carrella E poi anche gli altri che si sono abbonati ad agosto e che non hanno rinnovato l'abbonamento a settembre Vi ringrazio lo stesso, purtroppo non li posso controllare chi sono, tipo Isidoro ci sta, ti ringrazio Voglio ringraziare chi ha fatto almeno un euro di donazione in super chat Abbiamo Eva Veneziano, Teutz Mods, Renegade, Pietro Pasini e poi abbiamo i due top doneto che sono Esa e El Samuel con 3 euro Ti ringrazio bro e Christian Grimaldi con 4 euro Grazie mille ragazzi per aver sostenuto economicamente il canale in questi due mesi Passiamo alla classifica Gamba Coins del mese di settembre I primi in classifica abbiamo Roberto C già moderatore Complimenti resti moderatore perché tra Roberto C e Erfinked chi aveva meno Gamba Coins veniva eliminato da moderatore Complimenti Roberto resti moderatore Complimenti Giorgio secondo in classifica con 603 punti Poi abbiamo terzo Vizco che diventa moderatore di nuovo Complimenti signor Vizco anche abbonato Te l'ho detto che stia abbonato nella classifica? Sì, te l'ho detto Complimenti bro diventerai di nuovo moderatore Poi peccato per l'area che ha fatto la seconda posizione tra i non moderatori Poi abbiamo Federico Petrosino grazie Fedeonpad grazie Erfinked grazie Momikappati grazie Il caserone nazionale grazie Se siete curiosi ragazzi mettete in pausa e controllate dove siete in classifica Se siete curiosi di vedere quanti Gamba Coins avete accumulato Ve la scorro un po' mettete in pausa se volete controllare Detto questo ragazzi quindi azzeriamo la classifica Gamba Coins del mese Erfinked non sarà più moderatore per il prossimo mese lo diventerà Vizco E ragazzi vorrei fare i complimenti a Roberto C perché è un ottimo moderatore Non mi scassa le palle Non dà fastidio Non mi dice Gamba leggimi Non è provocatorio Non offende Non fa niente E quindi fa solo il suo dovere di moderatore Io lo ringrazio Devo dire veramente un ottimo moderatore E niente ragazzi Prima di chiudere il video vi ricordo di seguirmi su Twitch Link in descrizione Su Instagram Link in descrizione Noi ci vediamo in una prossima live Bella Ah dimenticavo di dirvi che Per chi stava guardando la lab di oggi Che si è bloccata e chiusa all'improvviso Semplicemente mi hanno staccato la corrente un'altra volta a casa Porca puttana Bella